Antonio Ingroia, uno dei componenti del famoso pullo di magistrati antimafia in cui operavano Falcone e Borsellino, ci sono stati risultati importantissimi come il maxiprocesso, Ingroia arriva in una fase successiva ma domani c'è il trentennale della strage che uccise Paolo Borsellino. Ai giovani d'oggi quali sentimenti, quale emozioni possiamo trasmettere su questa che rimane ancora uno dei misteri d'Italia? Innanzitutto il ricordo di questi grandi uomini che prima ancora che grandi magistrati sono stati un modello di cittadini esemplari con il senso del dovere, il senso della responsabilità, l'onestà fino all'estremo sacrificio. Ora non possiamo chiedere ai giovani di medesimarsi in questi eroi che sono modelli diciamo irraggiungibili ma di ispirarsi ai loro principi inflessibili, con la mafia non si tratta, non bisogna cedere a nessun compromesso, è quello che chiamava Paolo Borsellino essere liberi perché la mafia è schiavitù e riuscire a sconfiggere la mafia significa liberarsi dalle catene di questa schiavitù. Ma in quel periodo anche lei temette di essere ucciso dalla mafia? Beh sì, ci sono state in quel periodo tante minacce, poi si scoprì anche un progetto di attentato nei miei confronti proprio nelle campagne diciamo, non lontani da Alcamo, esattamente a Calatafimiseggista, e venne rafforzata la mia scorta ma io sono stato allievo di questi grandi uomini e quindi loro mi insegnarono che ci possono essere anche momenti di tensione, perfino di paura perché la paura è un sentimento umano però bisogna avere ancora più coraggio e vincere la paura. Quanto c'è stato di romanzato in questo film che va in onda da diversi anni su Canale 5? Mi riferisco magari alla parte che la riguarda in cui lei rinuncia alle ferie, porto la famiglia in vacanza e ritorno a lavorare. Beh no, al romanzato c'è poco, è la verità, ricordo bene quello fu l'ultimo incontro con Paolo Borsellino, prima di quel terribile weekend che poi finì quella domenica 19 luglio con la sua morte, io dovevo prendere una settimana di ferie e invece dissi faccio solo questo weekend e ci rivediamo lunedì in ufficio e purtroppo non lo trovai. Quanto condividi la presa di posizione dei figli di Paolo Borsellino, anche loro esempi di legalità nella loro vita finora, di non voler più partecipare a commemorazioni e celebrazioni? C'è una rabbia perché lo Stato continua a non consegnare la verità? Beh, più che comprensibile. Sono passati 30 anni, 30 anni durante i quali per decenni è stata consegnata una verità falsa, una verità depistata, si è svolta ora un processo nei confronti di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine ritenuti responsabili di avere costruito una falsa verità, si è arrivati troppo tardi anche per individuare il depistaggio, tanto che il processo si è chiuso con una sentenza di prescrizione e quindi è un fallimento dello Stato, è un fallimento della giustizia ed è più che comprensibile la profonda amarezza di questi giovani, non più giovanissimi ormai anche loro, figli di Paolo Borsellino. Manifestazioni, conferenze oggi, domani, ma ci sarà anche il tempo per una telefonata con i figli di Paolo? Beh, certamente gli starò vicino e quindi cercherò di manifestare ancora una volta la mia vicinanza. Anch'io ero un ragazzo 30 anni fa, avevo poco più di 30 anni, ero il più giovane magistrato del pull antimafia, loro erano proprio dei ragazzini studenti e credo che vada a loro tutto il nostro affetto, la solidarietà e il sostegno.